Giuseppe Iannelli, quali sono le sfide che attendono gli operatori di TLC Italia? Diciamo che farei un esempio che possiamo vedere come utenti. Io su questo smartphone ho tante applicazioni, tra cui voce SMS. La tendenza è sicuramente quella di avere tante applicazioni over the top che mettono sotto pressione l'utilizzo di questi servizi tradizionali. Se dall'altro faccio la considerazione che come utente sono contento di riprendere una tariffa all inclusive magari a 6 euro per un giga, ovviamente questo livello di prezzi pone un serio problema di sostenibilità economica sull'operatore. Quali sono invece i modelli evolutivi che lei vede per questo settore? Noi abbiamo fatto un po' una prorogazione, ieri utilizzando un settore completamente diverso come quello delle aeroline. Noi abbiamo detto che vediamo un modello che evolve o verso forme di go-to-market molto differenziate per segmento della clientela e poi una forte focalizzazione sulla struttura delle fabbriche alla ricerca di economie di scale di forme eventualmente condiviste. Che cosa intende invece Accenture per 100% digital? Mi ricollego all'esempio precedente. Il cliente si sposta verso un paradigma digitale. L'operatore deve da un lato soddisfare dei nuovi bisogni di una percentuale crescente della popolazione, probabilmente già intorno al 40% e dall'altro migrare clienti tradizionali proteggendo servizi e ricavi in questo passaggio. Che cos'è esattamente il business as a service? Abbiamo visto questa necessità di segmentare la clientela e i livelli di servizio e degli operativi. Abbiamo introdotto questo concetto del business as a service prendendo l'esempio del cloud in cui nelle diverse componenti di locazione del servizio se un cliente compra un servizio mobile a 10 euro, le diverse componenti di custom operation, IT e rete contribuiscono ad avere il corretto livello di costi e il corretto livello di qualità per quello specifico segmento.